Sindaco, questa sera c'è una riunione molto importante del Consiglio Comunale di Agrigento. Si deciderà, è necessario l'aumento al massimo delle aliquote del Limo, almeno oggi si pensa al Limo, nei prossimi giorni si penserà ad adizionare le IRPEF a tutte le altre tasse comunali. Questa sua conferenza stampa è stata propedeutica, quella approvazione, nel senso che ha fatto il punto della situazione e della grave crisi delle casse comunali dovuta ai trasferimenti ridotti dello Stato e della Regione. Oggi ci troviamo dinnanzi a una situazione di assoluta straordinarietà dovuta ai tagli e trasferimenti dello Stato, del Governo nazionale, effettuata nell'estate appena trascorse, con la quale ci comunica un taglio di trasferimenti complessivo tra taglio ordinario e raggiungimento del fatto di stabilità di circa 15 milioni di euro, che sommate al taglio di trasferimenti da parte della Regione arriviamo a circa 20 milioni di euro. Ora, dinnanzi a una situazione di questo genere, soprattutto comunicato questo nel mese di agosto, di settembre, ci troviamo a dover superare un passaggio che è assolutamente significativo e che ci chiama all'irresponsabilità. E io, così come ho fatto in questi anni, non intendo fuggire dalle mie irresponsabilità, intendo andare avanti, intendo soprattutto per prima cosa raggiungere l'obiettivo, che è quello dell'equilibrio di bilancio. Nel frattempo lavorare a un piano di alienazione per ridurre l'imposizione fiscale così alta, quindi mettere in atto altre misure che possano poi da qui al mese di novembre e di dicembre ridurre una situazione che sicuramente è di grandissima pesantezza. Ma voglio sottolineare come questa grande pesantezza che ci è stata chiesta dallo Stato, io la sto fronteggiando da un lato anche con l'ANGI e con i canali istituzionali, con gli altri comuni, e dall'altro lato, quindi sul piano politico, per una situazione in cui i comuni non possono continuare a essere tartassati da un lato, mentre dall'altro lato vediamo quello che per esempio succede nei consigli regionali. Quindi abbiamo uno Stato che chiede ai comuni sacrifici incredibili e allucinanti e dall'altro lato consigli regionali che sperperano così come abbiamo visto quello che è successo nel Lazio.